Anche quest'anno non ha tradito le attese la sagra della Zucca Berrettina di Lungavilla. Una festa giunta alla sua quindicesima edizione, la prima senza Emilio Manelli, fondatore dell'Associazione Zucca Berrettina, scomparso improvvisamente lo scorso inverno. E grazie a lui, ricordato dall'amministrazione comunale di Lungavilla con una targa consegnata al fratello Angelino, che questa festa è diventata quello che oggi, con visitatori in arrivo anche da fuori paese. Emilio Manelli, 15 anni fa, riscopriva un ortaggio, una varietà di zucca, che a Lungavilla si era perduta e nessuno più la coltivava. Lui l'ha scoperta nell'orto di un suo amico, di un signore di Lungavilla, e da allora l'ha studiata, ha fatto delle ricerche sulle ricette antiche, che venivano fatte con questa zucca e da lì è nata negli anni la tradizione di fare questa sagra, la sagra appunto della zucca berrettina, in cui si può assaggiare tutti i piatti che vengono cucinati localmente dai nostri volontari. Tanta la gente che si è fermata in piazza per il tradizionale mercato, in cui si è potuto vendere il prodotto. Il raccolto di quest'anno è stato soddisfacente, secondo i membri dell'associazione produttori della zucca berrettina di Lungavilla. La raccolta pensavamo di avere dei problemi perché ha avuto una primavera, soprattutto inizio d'estate, abbastanza piovoso e freddo. Invece è andata molto bene, soprattutto non tanto per la quantità ma per la qualità, perché comunque noi poi le zucche le tagliamo per fare poi tutti i preparati per il pranzo che serviamo durante la sagra e anche quest'anno abbiamo visto che è di ottima qualità perché siamo molto soddisfatti. Noi, ripeto, la festa va benissimo perché comunque abbiamo sempre tantissime persone che vengono sia a visitare il mercatino durante la giornata che a pranzo. Fortunatamente riusciamo a soddisfare tutte le esigenze, anche se purtroppo tante persone non riescono a mangiare perché ci siamo più richieste di quello che riusciamo a fare.